Ciao ragazzi, oggi facciamo una super combo LEGO Technic, infatti uniamo due modelli della serie pullback a retrocarica dello LEGO Technic, il quad, bellissimo, e il bolide supersonico, bellissimo anche lui però il quad scusate ce l'ho nel cuore, unendoli cosa succede se facciamo la combo? Nesce fuori unendo i pezzi questo super fuoristrada da corsa con 4 ruote motrici perché il sistema pullback lo metto sia avanti che indietro e in più vedremo anche il gameplay mio dell'applicazione Technic Race, ma quella la vediamo alla fine, gratuita sia per iOS che per Android, sia per smartphone che per tablet, ma andiamo alla costruzione prima del quad Allora, prima cosa che mi è piaciuta molto di questa serie pullback della LEGO Technic è la solidità assoluta della costruzione, ci ha giocato anche Nicolò che diciamo che avendo 3 anni non è proprio nel regg di età LEGO Technic ma è stato solidissimo, non l'abbiamo distrutto, anzi ancora completamente intero e sia la versione quad che la versione bolide supersonico che la versione combo delle due è veramente resistente, ci giochiamo benissimo come bolide a retrocarica Questa è la costruzione accelerata del quad, come sempre la leggo dettagli, dettagli per cui abbiamo gli adesivi, abbiamo la sella, abbiamo tutto quello che ci possiamo aspettare da un quad Technic per cui la massima precisione in tutto e poi 2 gommoni, cioè 4 scusate gommoni con super battistrada che vedrete ci saranno super utili tra un po' in quella che farò la prova di lunghezza perché si dalla confezione i bolidi c'è scritto che dovrebbero arrivare fino a 12 metri quando vengono tirati indietro E poi completamente rilasciati, per cui andremo su campo di gioco a vedere se questa distanza poi viene rispettata sia dal quad che poi dal super bolide che vedete si sviluppa un po' come una dragster in, forse è una dragster in lunghezza Pian piano vedete ho inserito anche gli sticker contenuti anche all'interno della confezione, motore che fuoriesce dal cofano per la massima potenza che ha a disposizione e poi dettagli assoluti anche nel volante Che può girare a destra e sinistra anche se ovviamente in questo caso l'auto non ha lo sterzo rotante perché pensate per andare dritto per dritto sento una retrocarica ed eccolo qua in azione Ecco qua il super bolide, ma come vi dicevo vediamoli in azione, arriveranno al metraggio promesso dalle istruzioni, allora il quad si diciamolo subito lo vedete parte dritto per dritto Anzi no, sta girando, sta girando, no la convergenza delle ruote Davide, no, avete presente quando la palla vi esce dal campo di calcio perché beccate l'unico buco possibile? Ecco è uscita perché ho beccato l'unico buco nella rete, comunque vi dicevo il quad va molto più lontano, arriva anche a 15 metri, adesso lo vedremo perché? Perché semplicemente le ruote del super bolide sono talmente sleek, talmente lisce che mi hanno fatto, mi hanno fatto, mi hanno sgommato e quindi o si va su una superficie anche in casa devo dire molto più ruvida o altrimenti niente da fare Come vi dicevo, cioè il quad stravince grazie al suo maggiore attrito che riesce a fare presa sul terreno, quindi diciamo il quad è arrivato benissimo fino a 15 metri di lunghezza Ma poi volete mettere questa figata assoluta di andare a mettere un sistema pullback a retrocarica sia in anteriore che in posteriore, veramente due geni, quelli che hanno pensato Due perché c'è anche il video dei tizi che l'hanno pensato, della Lego visto su YouTube, che hanno pensato questa super fuoristana a retrocarica Vedete sia le ruote anteriori che quelle posteriori, quindi 4x4 sono a retrocarica e il risultato si vede poi anche nella spinta per cui andiamo tranquillamente sopra i 15 metri del caso Veramente una partenza reattiva, poi le gomme sono quelle del quad per cui partenza reattiva vedete, velocissima, pronti, attenti via Come vi dicevo ve l'ho fatto vedere apposta per far vedere che è super resistente Anche con Nicolò ci siamo divertiti un sacco, anche sul portito del nonno per dimostrare il pomeriggio Infatti la mattina ho girato a casa, il pomeriggio avete visto ho unito sul pavimento dei miei a casa il resto della costruzione Ma ne vedete il risultato è veramente ottimo e ci siamo divertiti un sacco a poi farlo correre, scontrare eccetera eccetera Senza avere alcunissimo problema di danneggiare la sua solidissima super vedete struttura Bene, allora adesso è arrivato il momento ragazzi pronti di andare al gameplay per cui dall'azione fisica a quella virtuale Ed eccoci ragazzi all'applicazione Technic Race, applicazione gratuita di Lego Technic con cui possiamo andare a giocare con le macchine a retrocarica Vedete poi se noi riusciamo a ottenere una stella in ogni gara possiamo sbloccare il camion da corsa con il codice che otteniamo Quindi una stella sul Black Champion ce l'ho, andiamo a vedere come funziona il body del deserto D'altone sono identiche le modalità di gara per cui ve le mostro, pronti, vum, vum, partenza, prima dentro e andiamo Vedete bisogna tirare indietro la retrocarica e via A questo punto si gira sinistra a destra semplicemente in questo modo cercando di evitare tutti gli ostacoli Grandioso, uuh, ok perfetto ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, via le velocità, velocità, dovete riuscire a prendere la velocità E poi più giri, non ce l'ho fatta, attenzione, uuh E poi più bonus riuscite a prendere, attenzione a non andare a incastrarsi con gli altri Uuh, l'ho preso in pieno, velocità, velocità Uuh, uuh, vedete nel frattempo cala la potenza che ho qua a destra per cui io devo riuscire a fare più giri possibili E ogni volta che poi vado avanti ottengo dei bonus Vedete ogni giro ottengo dei bonus, mi si ricarica il tutto, ah ho preso di tutto Via, uuh, lo supero, lo supero, superato, vai bonus, 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 uuh Ah, ah, è un gioco veramente velocissimo Ah, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, vai, vai velocità, velocità Testa, sinistra, destra, oh, destra, no, l'ho preso in pieno, l'ho preso in pieno Vai, vai velocità, velocità, superato, superato Uuh, perfetto, destra, sinistra, destra, ah l'ho preso Bonus, 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 bonus di tempo Ok, ecco qua, ecco altri bonus, 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 vedi che mi ricarico E prendo punti, prendo punti, velocità, velocità, ricaricato Nuovo giro, nuovo giro, ok, nuovo giro, sono al 100%, sono al 100% Vai, 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 testa, sinistra, destra, uuh, velocissimo Bonus 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 Me li ha presi tutti Managgia lui Managgia lui Bonus velocità Velocità Velocissimo velocissimo Destra sinistra destra No l'ho preso in piedi Via 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 evitiamo evitiamo Bonus 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 Destra sinistra Dovete essere velocissimi con le dita Davanti c'ho il camion C'ho il camion C'ho il camion E' quello che voglio io Super veloce Super veloce Destra sinistra destra Ho ottenuto un super bonus Vedete riesco a distruggere tutto Sono così veloce No vai No 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 Vai 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 Ce l'ho fatta ce l'ho fatta L'obiettivo quindi in realtà Più che gareggiare con gli altri Quello di gareggiare contro se stessi Per riuscire ad ottenere Più risultati possibili Sinistra destra Sinistra ti raggiungo Bonus 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 Super velocità Destra sinistra destra Destra sinistra Davide sinistra Bonus velocità Perfetto perfetto Dai che ci arrivo Dai che ci arrivo No Ah si ce l'ho fatta Ero a zero Sono arrivato Però sono riuscito a prendere il traguardo Grandioso Grandioso Sentite Tic Tic Sta scadendo il tempo Non so se questa volta ce la faccio Magari con una velocità assoluta No Zero Zero Ah non ce l'ho fatta Zero Mannaggia Uh Ok Credete Ho fatto il mio record personale Vediamo Allora Distanta percorsa 311 metri Vuol dire che sono quasi arrivato A pilota professionista Uh vedete Complimenti Camion da corsa sbloccato Ce l'ho fatta Ho ottenuto una nuova stella E quindi combina black champion E boli del deserto Per costruire il camion da corsa Andiamo al camion da corsa Uh Atomico Grandissimo Cos'è un camion da corsa Retrocarica Via Uh Sono velocissimo Dove dire che il camion da corsa Ah è proprio da corsa Uh 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 Stiamo parlando ragazzi Di raggiungere una velocità Che non riuscite più con le dita A capire dove sono da sinistra a destra Il bello del camion da corsa In effetti Che il camion butta giù Meno ostacoli Perché cioè Fa meno fatica A buttare giù gli ostacoli Perché sono proprio Uh Uh Guarda come lo supero Guarda come lo supero Guarda come lo supero Uh Tutto a sinistra Tutto a sinistra Vai 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 Sinistra Destra Sinistra No 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 Mi hanno superato in tutti Dai mi riprendo Mi riprendo Turbo Turbo Sì destra 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 Devo dire che il fatto di essere Di correre con altre macchine Crea un po' di confusione Sarà anche del bello del gioco Ma in effetti Uh Super turbo Non capisco più niente Sto buttando giù tutto Uh Uh Praticamente sono senza avversari E con super turbo Ho fatto l'impossibile Uh 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 Super turbo Super turbo ancora Uh Sinistra 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 Destra 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 Uh No 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 la macchina Vai 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 Turbo 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 Benissimo benissimo Un sacco di punti No Sì 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 Oh c'è tantissime Vai 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 No destra 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 Vai vai Lo ho fatto a prendere a lui Lo ho fatto a prendere a lui Uh Turbo Uh Chi mi tiene più Chi mi tiene più ragazzi Ho preso il super turbo Uh Quando avete il super turbo blu Vedete Potete prendere tutti gli ostacoli Che vedete Che volete Che non c'è problema Uh Uh Voglio un turbo Voglio un turbo Ne voglio un altro Sì No l'ho mancato Per un soffio No Destra 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 Si sta si sta Destra Vai 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 Uh 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 Ah no L'ho preso il piede L'ho preso il piede No 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 Destra Destra Uh Il bello Il bello Darsi degli scontri Con gli altri Per cercare Non riuscire a prenderli Uh 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 Sinistra Sinistra Davide Ti sei incastrato Uh Ho preso un po' di punti Ma mi serve un turbo Un turbo Un turbo Voglio un super turbo Uh 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 Non ho capito Ancora bene Quanti turbo devo prendere Per avere il super turbo Però Uh 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 Via Uh Un po' di punti 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 Corre 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 No Mi sono rovin No Passo io Passo io Passo io Turbo Turbo Uh Uh Grandi Grandi deviazioni Uh Uh Mi sono ricaricato Ragazzi Ok Comunque abbiamo capito Che funziona Il gioco è veramente Veramente divertente Allora Per qualsiasi Fermati 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 Ok Continua dopo Per qualsiasi Domanda Informazione Ragazzi Come sempre Devo dire Tra i giochi Le costruzioni E il gioco stesso Con il Lego Retrocarica Tengono C'è da divertirsi Per qualsiasi Informazione Ragazzi Commento Come sempre Potete iscrivermi Qui sotto Nelle informazioni Del video Io vi aspetto Alla prossima Ciao ciao Davide